Musica Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di GeneticDNA e con questo nuovo video continuiamo le avventure dei nostri eroi Ellie e Joel Buona visione! Sì, ce ne siamo andati perché l'esercito ha abbandonato l'aria e oltre a che era ridotto con il senso Inoltre a tutti i nostri eroi Facciamo attenzione, siamo vicini a uno dei loro posti di guardia Solo tu e il tuo figlio, ho promesso che mi sarei preso cuore È una bella cosa Va bene Ellie, forse ho trovato un altro di quei fumetti che stai leggendo Stupendo, ti fa bene E' una bella cosa Aspettate, fate silenzio Via dalle finestre Andate Merda, quel cazzo di camion Ci talluna da quando siamo arrivati in questo... Sam, che cosa fai? Niente Lascialo lì Il mio zaino è praticamente vuoto La regola sulle cose da prendere Non pesa niente La regola Qual è? Prendiamo solo il necessario Esatto Ora andiamo Quanto è lontano questo posto Ci siamo quasi Manca poco Allora andiamo Allora andiamo Cos'hai trovato? Coprici, Sam. Niente. Chiunque ci fosse quassù, se n'è andato da un bel po'. Sam, resta con me. Dove sono gli altri? Ok. Volevano fare un altro giro. Controlliamo se c'è altro. Va bene. Dà un'occhiata laggiù. Io controllo questa zona. Vieni fuori, Cotardo! Vieni fuori. Vieni fuori. Vieni fuori. Vieni fuori. Grazie. Che cazzo c'è? Figlio di troia. Ehi, gira a piedi! Ce l'abbiamo fatta. Non male, veterano. Ehi, gira a piedi. Ehi, gira a piedi. Ehi, gira a piedi. Ehi, gira a piedi. Da questa parte? E' sicuro? Sono così vicini. Io sono l'unico ad avere la chiave. E dove l'hai presa? Allora, quanti anni hai? Io? 14. E tu invece? Lo stesso. 14 anni, eh? Quattro. Certo. Vabbè? Eccoci. Benvenuti nel mio ufficio. Da quanto tempo siete chiusi qui? Qualche giorno. Abbiamo un po' di cibo, però. Vieni. Mirtilli. Ne abbiamo trovati un sacco. Ne vuoi un po'? No. Ehi, amico, rilassati. Siamo al sicuro qui? Non siete scappati. Perché? Aspettavamo il momento giusto. E? Vieni. Dai un'occhiata qui. Guarda quei figli di puttana. Tutti i giorni si radunano lì sotto e sorvegliano quel dannato ponte. Ma di notte rimangono in pochi di guardia. Dobbiamo provarci dopo il tremonto. Una volta andati, proviamo a passare. Può funzionare. No, funzionerà. Funzionerà di certo. Aspetta, aspetta. Ne ho un altro. Guarda. Sono bravo. Aspetta. Ai! Ferita da un mirtillo, eh? Ero da tanto tempo che Sam non rideva così. No, non è anche qui andata. Lei non sembra molto preoccupata. Ok, pronta. Dove stavate andando? Ho sentito che le luci hanno la base verso ovest. Ci uniremo all'ora. Già. È divertente? È solo che ultimamente sembra che tutti facciano affidamento sulle luci. Già, magari c'è un motivo. Quindi non sai dove siano e lo stai trascinando per tutto il paese per trovarli. Sai che ti dico? Io mi preoccupo di mio fratello e tu della ragazzina. Tranquillo. Anche noi stiamo cercando le luci. Noi siamo qui. C'è una stazione radio militare abbandonata, subito fuori città. I sopravvissuti del nostro gruppo si incontreranno qui domani. Tu e lei potete venire con noi. Partiamo stanotte. Allora faremo meglio a riposare. Dice che è ora di andare. Ci muoveremo in fretta, ok? Quindi tu resti attaccato a me come colla. Come colla. Come colla. Capito. Bene. Bene. Ok. Pronti? Sì. Ok. Bene. Stiamo vicini, ok? Ci hai già provato? Eh, sì. Rassicurante. Rilassati, vecchio. Spero che tu conosca la strada. Ok. Ok. Cerchiamo di farli fuori. Senza fare troppo rumore. Ehi. Come va? Cerco di restare al caldo. Come va la fuori? Abbiamo eliminato qualche infetto. Ma nessun segno dei turisti. Credi siano ancora in città? Sì. Sono ancora qui attorno. Ok. Vado a fare un altro giro. Guardati le spalle. Sì. Anche tu. Joel, c'è un vizio sul rispettore. Lo vedo. Il vero ninja, ragazzo. Il diavolo è Il diavolo è Aspetta, eccolo, laggiù Peccato Hai visto che roba? Non male Non male Non male Non male Non male Ehi, amico Passiamo per farci la corda, ok? Passiamo per farci la corda, ok? Ma vada via al culo va? Ehi, come va? Ok, vado a fare un altro giro, guardati le spalle Sì, anche tu Lo vedo Lo vedo Ci sei fare, amico Whoa, perché ci sei Sì, sì. Merta! Trova qualcosa per nasconderti. Vediamo nel corridoio. Tu, cerca in strada. Mettere di... Lui è là tu! Lui è dentro, chi è qua? Lui è dentro, non è abbastanza. Sulla destra! Tu, cerca in strada. Ci siamo, abbastanza. Lui è dentro! Lui è dentro! Lui è dentro! Lui è dentro! Ti do fuoco! Figlia di puttana! Stai tranquillo! È tutto ok, amico! No! No, non fai! Bene, ce l'abbiamo fatta. Harry, dammi una mano. Ok. Pronto. No! 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 Tira! Che... andiamo! Ehi! Sono questo! No! Centro! Davanti, andiamo Ok, controlla A posto, Sam, andiamo Su, ragazzo, vai Ci sei? Ragio Merda Forza, forza È lì Ok, tiriamolo su Mi dispiace Andiamo Cosa? No Che stronzate Ehi, ora Affanculo, Harry Merda Restiamo insieme Oh, cazzo Oh, cazzo, schaola Da qui Oh, cazzo Vediamo lo succede laggiù Pare li abbiano trovati Dividetevi, potrebbero passare di qui No, cazzo! Prefettelo! Spacerai per questo Cazzo Arrenditi, non peggiorare le cose Vediamo cosa troviamo Li hai visto? Bel colpo Stronzo Stronzo Grazie a tutti. 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 No, Harry! Stai indietro tu! È incazzato, ma non farà niente. E sei proprio sicuro? Basta! Joel! Ci ha lasciatela fuori a morire. No, era probabile ce la faceste. Ed è stato così. Ma fossi tornato per voi, avrei messo in pericolo lui. Stai indietro. Se è stato il contrario, sareste tornati per noi. Ti ho salvato. ha salvato anche me. Saremmo annegati. tranquillo, piccoletto. Tutto ok. E per quanto valga, sono felice che vi abbia visti. la torre radio è dall'altra parte della scogliera. Ok? Il posto è pieno di provviste. Sarete felici di non avermi ucciso. Questo gameplay finisce qua. Ciao ciao a tutti ragazzi.